nella scorsa puntata hai fatto riferimento alla mano invisibile cioè quella quel modo di fare cinema che guida lo spettatore in una sequenza narrativa attraverso diversi espedienti contrapposto alla corrente russa del montaggio delle attrazioni che invece ha come fine come abbiamo visto non quello di raccontare una storia ma quello di esprimere un concetto in questa puntata quindi direi di approfondire il tema della mano invisibile che poi non è altro che il montaggio classico cioè quell'insieme di tecniche ancora alla base del cinema a noi contemporaneo giusto certo il montaggio è una parte fondamentale del processo di realizzazione di un film ma per poter montare qualcosa è necessario avere qualcosa da montare cioè l'unità fondamentale del cinema ovvero l'inquadratura quindi comincerai a parlare di quello certo cosa vuol dire inquadrare inquadrare vuol dire appunto mettere in un quadro un soggetto piuttosto che un ambiente un oggetto anche e inquadrarlo appunto per una certa per un certo tempo quindi l'inquadratura anche una durata ok quindi l'inquadratura è la nostra unità fondamentale il nostro mattone della casa film esattamente sì da un punto di vista più tecnico possiamo definirlo anche come un segmento di pellicola compreso tra due tagli se consideriamo che il cinema fino a pochi decenni fa era girato su pellicola era registrato su pellicole quindi c'era il montatore che appunto tagliava i vari segmenti di pellicola e li incollava l'uno all'altro certo cosa comunque che succede ancora perché alcuni registi che fanno operano delle particolari scelte estetiche stilistiche esatto usano mi pare giusto usano ancora oggi nonostante ci sia il digitale comunque usano la pellicola sì perché appunto hanno un'estetica diversa da registrare in pellicola piuttosto che in digitale ha un risultato risultato diverso ad esempio tarantino in date full eight che è un film relativamente recente ha girato con una pellicola tra l'altro non quella canonica da 35 mm ma da con quella da 70 e in alcuni cinema era anche possibile vederla con la pellicola di 70 mm quindi una cosa super particolare per i nostri tempi certo cioè mi ricordo infatti quindi tornando all'inquadratura definita come segmento compreso tra due tagli possiamo dire che anche nel digitale è possibile identificare questo tipo di unità fondamentale giusto anche noi nel nostro piccolo usiamo dei segmenti esatto un certo numero di inquadrature quindi un certo numero di segmenti che noi riprendiamo uno per volta e poi attacchiamo uno di fianco all'altro e da lì montiamo il nostro video ok direi di far vedere magari un esempio tratto anche da uno dei nostri video per far capire questo concetto direi che è esemplificativo un scorpio se fossi il tipo di persona che considera esaurita l'esperienza romana nel 476 questa carrellata finirebbe qui ma se seguite questo canale saprete che non sono quel tipo di persona perciò vi dirò che all'inizio del sesto secolo risale la prima attestazione del dromone che costituirà il nervo della flotta romana d'oriente fino al tredicesimo secolo in realtà e questa è un'unità fondamentale cioè un segmento compreso tra due tagli un'inquadratura appunto che poi verrà montata all'interno di una sequenza giusto sì è il regista che decide non solo cosa inquadrare ma anche come inquadrarlo se all'interno dello spazio dell'inquadratura è tutto organizzato o invece se si può lasciare più spazio all'improvvisazione per gli attori ad esempio quindi ci sono diversi tipi di inquadrature sì quindi un'inquadratura può avere un taglio restrittivo cioè che quindi sembra costringere i personaggi al suo interno può invece essere dinamica quindi seguire ciò che sta avvenendo all'interno dell'inquadratura e quindi essere mobile un po come i personaggi all'interno dell'inquadratura stessa oppure può essere addirittura indifferente cioè l'inquadratura rimane fissa e i personaggi entrano ed escono senza che vengano seguiti particolarmente molto interessante a questo proposito direi che ci sta bene un altro esempio sì infatti nei giorni scorsi abbiamo preparato una clip che andiamo a vedere adesso possiamo dire concluso questo excursus sulle principali navi da guerra romane ma come si svolgeva nella pratica un combattimento navale ok allora abbiamo visto come nell'inquadratura restrittiva mattia sembra quasi essere costretto dal bordo destro dell'inquadratura a continuare a camminare avanti anziché a uscire appunto verso la destra dell'inquadratura mentre in quella dinamica abbiamo visto che la macchina da presa stessa si muove e quindi è dinamica esattamente come mattia è dinamico nel muoversi da un punto a un altro e nelle terze inquadratura abbiamo visto un'inquadratura indifferente nel senso che appunto seguiva il soggetto non seguiva il soggetto che era sottoscritto ma continuava a rimanere fissa a inquadrare lo studio mentre appunto il soggetto continuava a entrare uscire dalla stessa inquadratura ok quindi quando si finisce di girare si hanno si ha questa gran messe di mattoncini che sono le unità fondamentali cioè le inquadrature come si fa per legarle insieme è necessario che nella fase in cui si gira tutte le inquadrature vengano vengano numerate ok numerate in modo tale che quindi hanno un titolo un determinato nome sostanzialmente quindi titolo e nome che corrispondono esattamente a quelli che abbiamo messo sul sulla sceneggiatura e quindi da lì andiamo a montare i pezzi nella sequenza i pezzi le inquadrature nella sequenza che ci suggerisce la sceneggiatura ok facciamo corrispondere al numero della sceneggiatura quello del dell'inquadratura realizzata certo e ci sono altri abbiamo parlato di diversi tipi di inquadrature però c'è anche la questione dell'audio giusto che rientra nel nel discorso inquadratura certo dalla fine degli anni venti anche l'audio è diventata una componente fondamentale dell'inquadratura che deve essere quindi registrata mixata e messa insieme quindi con tutto con tutto il resto dell'immagine ci sono delle particolarità anche riguardo all'audio nel senso che spesso può capitare che il punto di vista possa non coincidere con il punto di ascolto ovvero che il il soggetto che magari sta parlando è talmente lontano che noi nella realtà non lo potremmo sentire mentre invece grazie ai microfoni comunque lo sentiamo vicino grazie al montaggio grazie poi al montaggio esattamente lo sentiamo esattamente allo stesso volume di quando poi lo stesso soggetto è più vicino alla macchina da presa come tra l'altro accade in una nostra clip che abbiamo girato qualche tempo quella mi pare della religione etrusca se che mandiamo vediamo voglio ringraziare l'amico ed etruscologo antonio per nigotti per avermi aiutato con la bibliografia per la parte sulla divinazione e sul fegato di piacenza e che mi ha inviato anche le sue preziosissime pubblicazioni infine vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale di mastro elia che è bravissimo e ne vale la pena vi lascio il link qui sotto in descrizione e credo di non aver nient'altro da dire su questa faccenda e questo era un esempio di punto d'ascolto che in questo caso non era realistico giusto robin sì perché all'inizio dell'inquadratura il punto di vista era diverso dal punto di ascolto infatti nonostante tu fossi lontanissimo io ti sentivo bene lo stesso mentre quando invece il punto di vista di ascolto è coinciso ti sentivo bene uguale certo ok quindi abbiamo definito la nostra unità fondamentale l'inquadratura quindi possiamo cominciare a parlare di montaggio vero e proprio ok quindi noi per montare una sequenza nel girato usiamo degli espedienti per raccordare un'inquadratura con l'altra cioè usiamo dei movimenti del che io faccio in modo che sembri tutto più fluido esatto esatto ma era così anche agli albori cioè si è sempre si sono sempre usati questi metodi di raccordo tra un'inquadratura e l'altra no diciamo che il processo di creazione di questa cinematografia classica questo linguaggio avviene circa in una ventina d'anni il cinema nasce nel 1895 e diciamo fino alla prima guerra mondiale abbiamo un grande interscambio di idee anche perché in quel periodo il mondo era un mondo tutto aperto e quindi la belle epoca esatto il le pellicole di vari stati dei vari registi circolavano un po in tutto il mondo e quindi possiamo dire che la cinematografia classica che viene detta spesso hollywoodiana in realtà è il linguaggio classico più che linguaggio classico è un linguaggio che nasce come un linguaggio internazionale che poi hollywood fa rende come proprio fa diventare proprio subito dopo la prima guerra mondiale praticamente perché gli altri smettono di fare cinema in quel modo no perché la cinematografia hollywoodiana diventa un po la capofila e quindi si pensa che sia nata da loro sostanzialmente quindi prima della codificazione del cinema hollywoodiano come come si girava come o meglio come si montava possiamo rispondere a tutte due le domande si girava in maniera quasi teatrale l'inquadratura sembrava quasi quella di un teatro ok quindi si attaccavano le varie inquadrature teatrali una di seguito all'altra quindi con camera fissa camera fissa davanti a un ipotetico palcoscenico sì anche in in plein air cioè nel senso all'aperto o in teatri di posa la particolarità era che non esistevano i primi piani i particoli inquadrature dei particolari di cose di oggetti delle mani piuttosto che degli occhi non ci non esistevano queste inquadrature ravvicinate erano tutte inquadrature di totali che riprendevano tutti i vari personaggi non si riusciva spesso a distinguere chi fosse il protagonista da chi no e anche l'azione spesso non era così chiara e questi però questi film venivano comunque proiettati nonostante fossero di difficile fruizione perché se non si capisce chi è il protagonista infatti spesso perché erano accompagnati in sala dalla musica c'era un pianista che suonava per animare il fatto che non ci fosse l'audio e dopo un certo periodo venne cominciato ad essere utilizzato un imbonitore ovvero qualcuno che spiegasse cosa stava succedendo in modo tale che gli spettatori capissero cosa succedeva oppure venivano utilizzate dopo un po' gli imbonitori spariscono e vengono cominciate ad essere utilizzate le didascalie ok che facevano come il primo erano come dei titoli dei capitoli ogni inquadratura ogni quadro corrispondeva un titolo poi dopo hanno cominciato anche a spiegare cosa succedeva dentro e beh penso che questi c'è un po tutti abbiamo provato a vedere dei film vecchi o anche delle parodie di film vecchi per esempio mi viene in mente fascisti su marte che parte la prima parte del film è come se fosse un film muto e ci sono questi quadri quadri neri con le scritte che spiegano cosa cosa succede in scena alla fine anche spesso vengono utilizzate vengono inserite le battute degli attori quindi si vedono gli attori che muovono le labbra e poi la battuta o viceversa prima la battuta e poi gli attori che muovono le labbra ok direi di vedere a questo punto un esempio e vediamo una piccola parte di The Great Train Robbery di Porter del 1903 in cui ci sono una serie di quadri un attaccato all'altro con inquadratura da lontano e quindi non si capisce bene chi sono i personaggi chi è il protagonista piuttosto che l'antagonista quindi se non capite nulla non spaventatevi è tutto normale è tutto quello che si capisce bene Grazie a tutti. Allora, ha capito qualcosa? Sì, allora, dobbiamo dire che è normale che noi del ventunesimo secolo non riusciamo tanto a capire cosa succede all'interno di questi film, ma per gli spettatori del ventesimo secolo, invece, dell'inizio del ventesimo secolo, un film del genere era normale. Ok, quindi come si è passati da questo tipo di montaggio giusto apposto? Sì, una inquadratura di fianco all'altra. Esatto, così senza nessun raccordo. Senza raccordo, ha invece un tipo di montaggio più fluido. Allora, i registi, come abbiamo detto, col fatto che appunto il mondo fosse aperto e c'era un grande scambio di film, di idee, quindi la cinematografia era una cinematografia globale, internazionale, hanno cominciato a capire che attraverso alcuni espedienti di montaggio il film risultava più chiaro. E quindi sono nate alcune tecniche particolari di montaggio che usano i registi ancora oggi. Ci usiamo perché anch'io sono il regista. Ma sì, sì, ci mancherebbe. E montatore. E sono appunto quella del montaggio alternato, ovvero alternare due scene, due azioni, più che due scene, che si svolgono nello stesso momento. Per far capire che si svolgono nello stesso momento appunto le alterniamo. Quindi una scena dove si svolge una cosa, quella successiva dove si svolge l'altra e poi si ritorna a quella precedente nella scena successiva. Ok? Poi c'è invece il montaggio analitico dove appunto c'è un'inquadratura principale all'interno di una scena che inquadra in largo tutto quello che succede, un totale quindi di tutto quello che succede. E poi passa, ci sono delle inquadrature più strette che passano a inquadrare magari un primo piano particolare. All'interno della stessa scena. Sì, esatto, all'interno della stessa scena, quindi punti di vista diversi e più vicini ai personaggi tendenzialmente, ma anche a oggetti che sono necessari alla narrazione. Oppure un montaggio contiguo. Cosa vuol dire? Che se tu, Mattia, uscissi di scena verso destra, devi ricomparire, se stai continuando a camminare, devi comparire andando nella stessa direzione. Quindi comparirai nell'inquadratura da sinistra e continuerai il tuo percorso. Oppure, se vuoi fare un cambio di direzione, l'unico cambio che vuoi fare è quello frontale. Nel senso, puoi andare o verso la macchina o ti allontani. E a quel punto puoi di nuovo o girarti a sinistra e quindi continuare a camminare da una parte, ma anche dall'altra. Un altro accordo contiguo è quello degli sguardi. Il campo e controcampo che noi stiamo facendo adesso è un raccordo di continuità di sguardi. E queste sostanzialmente sono le basi, l'ABC del montaggio che usiamo ancora oggi. Per far capire meglio tutto questo, qualche giorno fa abbiamo realizzato una sequenza divertente che è molto esplicativa e farei vedere. Certo, allora buona visione. Un po' che è il quadro storto. Un po' che è il quadro storto. Ciao Mattia, alla buon'ora eh. Adesso stare, traffico incredibile. Ascolta, Robby è già arrivato? Sì, è appena arrivato, ti sta aspettando di là. Ottimo, allora ti lascio le chiavi e vado. A dopo. A dopo, ciao. Eccomi Robby, scusa il ritardo, c'era traffico. Bene, però vedo che ti sei organizzato abbastanza bene. Sì, sì, ho sistemato un pochino, anche se c'è ancora la scrivania. Sì, però due su tre quadri almeno gli hai tolti, bene, mi fa piacere anche se c'è quello più bastardo. Sono impegnatissimo, non vedi? Cioè, devo sistemare tutta l'attrezzatura. Ok, ascolta, devo anche andare in bagno. Sì, iniziamo alla una. Arrivo subito. Sì, dai, spicciati, spicciati. Bene, direi che adesso è tutto molto più chiaro. Sì, certamente più chiaro. E non abbiamo parlato però del piano sequenza, che era l'ultima parte della clip che abbiamo appena visto. Sì, in pratica una tecnica utilizzata, possiamo dire, fin dagli albori, che era quella dei padri della cinematografia, anche dello stesso Porter che abbiamo visto prima, ed era quella dell'inquadratura, singola, che inquadrava tutta l'azione che si svolgeva durante il film. Cioè, un'inquadratura più teatrale. Sì, è un'inquadratura unica. Non è per forza teatrale perché, come abbiamo visto nel film Birdman, l'inquadratura in quel caso si muove, si muove tantissimo, è quasi un personaggio. Cosa vuol dire un piano sequenza, sostanzialmente? Vuol dire che non ci sono stacchi, non c'è stacco prima, non c'è stacco dopo. Quindi è un'inquadratura unica che segue l'azione del film. Ok? Lì nel Birdman c'è qualche stacco finto che collega le varie grandi macro sequenze di piano sequenza. Non si vedono, ma ci sono. E beh, poi magari possiamo anche dedicare una puntata proprio a quel film che... Sì, sì, sì. C'è anche un film invece russo del 2002 che si chiama Arca Russa, girato da Sokurov, che invece quello è stato girato in un unico piano sequenza. Sono 90 minuti di piano sequenza. Cioè, quindi è un buona la prima dall'inizio alla fine, eh? Sì, in realtà è stato buona la quarta, però la prima volta, sì, hanno rifatto la prima volta dopo 5 minuti per errori tecnici, le prime volte, insomma. Poi dopo la quarta sono riusciti a girarlo tutto. E beh, magari anche questo sarà interessante analizzarlo in una puntata dedicata. Tornando invece al montaggio, quindi grazie a queste tecniche lo spettatore entra molto di più all'interno del film, viene coinvolto molto di più, grazie soprattutto alla invenzione, possiamo dire, dei primi piani. Lo spettatore riesce a capire meglio lo stato d'animo dei personaggi, la psicologia dei personaggi e quindi anche a capire meglio come va il procedere della storia. Si aspetta qualcosa da un determinato personaggio che ha una determinata psicologia, una determinata caratteristica. E certo, e quindi anche gli attori in questa fase devono cambiare il modo di recitare, giusto? Esatto, dalla solita pantomima teatrale devono abbinare anche delle espressioni facciali che corrispondano al loro movimento e quindi diventa tutto un nuovo mestiere anche per loro. Quindi è da questo momento che comincia a differenziarsi il mestiere dell'attore teatrale da quello dell'attore cinematografico. Sì, da questo momento in poi direi che le strade cominciano a prendere due direzioni completamente diverse. Bene, tornando al montaggio, c'è un regista che ha dato un contributo particolare allo sviluppo di queste tecniche? Sì, tant'è che molti pensano che dietro a tutte queste innovazioni ci sia la mano di un unico regista, che è David Griffith. Però, come abbiamo visto, tutte queste innovazioni sono il risultato di uno sviluppo collettivo del cinema. Il contributo di Griffith però non è da sottovalutare, perché lui nei suoi film, in particolare nel film The Birth of a Nation del 1915, è in grado di utilizzare tutte queste tecniche in maniera matura, nel senso che le utilizza come un vero e proprio nuovo linguaggio. E, a differenza invece di come facevano i suoi contemporanei ancora, che le utilizzavano come una sorta di trucco di effetto speciale. Quindi si può dire che lui è il primo a usare un linguaggio cinematografico moderno maturo? Sì, esatto. A dimostrazione di questo vi faccio vedere una clip del film The Birth of a Nation del 1915, nella sequenza in particolare dell'assassinio di Lincoln. Vediamola. Sì, esatto. Sì, esatto. Sì, esatto. Beh, direi che questo film sembra un film moderno, cioè si riesce perfettamente a seguire l'azione, ma anche a intravedere quello che sentono i personaggi, no? Sì, sì, sì. L'unica particolarità che adesso non si usa più è quello dell'utilizzo dei mascherini, che servivano appunto per coprire parte della visuale della camera, per focalizzare l'attenzione su determinati particolari. Dove ancora magari il primo piano o il dettaglio non si era ancora in grado di farlo alla perfezione, si utilizzavano questi mascherini per... Per limiti tecnologici. Parlando di limiti tecnologici. Sì, sì, esattamente. Per evidenziare o mettere, isolare appunto un particolare significativo che doveva essere colto dal pubblico. Certo. Altra innovazione di Griffith è quella del montaggio parallelo, che lui utilizza nel suo film successivo del 1916, Intolerance, nel quale vengono raccontate e alternate abilmente quattro storie di quattro epoche totalmente diverse, molto lontane tra di loro, che hanno il comune denominatore che è quello della violenza. In particolare si parla della storia della caduta del re di Babilonia, del re buono di Babilonia, della passione di Cristo, della strage degli Ugonotti del 1572 e di una storia più contemporanea, che è una storia di gangster. Contemporanea ovviamente a lui negli anni dieci. Sì, 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 contemporanea sua, certo. Ok, direi che possiamo guardare magari una clip di questo film. Abbiamo una clip, vediamo. Bene, direi che abbiamo messo abbastanza carne al fuoco con questa puntata e noi ci salutiamo qui. Io sono Mattia, io sono Roberto e questo è Humanistic Valley. Queste tecniche esistevano già in realtà, abbiamo visto che il cinema ci... Come... Buon capito!